Andalusia si è concluso anche questo campionato del mondo di primavera, la grande nota della primavera su questi grandi terreni e su questi selvatici. Orgoglioso, sempre più orgoglioso di quello che stiamo facendo, il curva di italiani, l'allevamento italiano si impone ancora ad altissimo livello vincendo il campionato individuale. Il campione individuale di quest'anno è BOS, condotto per Bottani, proprietà di Claudio Cavalli. Sono tutti presenti, i miei conduttori, hanno ben figurato sul campo, tanto da portarci anche a poca distanza secondo nella classifica in squadra con 20 punti. Un cane uscito con la grande sfortuna, ma col punto, però ammirati da tutti e con i complimenti anche di tutti i giudici che hanno condiviso questa manifestazione, questo ci rafforza nell'intendimento che stiamo perseguendo da anni, avvalorando il nostro allevamento e presentandosi in questo modo. Un ringraziamento particolare al di là dei proprietari e dei conduttori va a vivo Zeminiani che con grande sagazio, determinazione e personalità ha costituito e disegnato questa squadra in concertazione, l'abbiamo messo sul campo e ci ha gratificati. Grazie Ivo, grazie ai proprietari e ai conduttori e grazie al curva e viva l'Andalusia e viva il mondo della sinofilia.